Musica Mercoledì 19 febbraio a Dancona nel palazzo della Regione Marche si è tenuto il convegno dedicato alle forze dell'ordine, operatori, tecnici e professionisti per conoscere risultati e nuovi obiettivi del progetto comunitario denominato Life Strade per la gestione degli incidenti tra veicoli e fauna selvatica attivato in cinque province della Regione Marche, Toscana ed Umbria. Obiettivo dell'iniziativa è prevenire gli incidenti dovuti all'attraversamento stradale degli animali selvatici, mantenere la biodiversità e sensibilizzare i cittadini sul rispetto e la tutela dell'ambiente, condividere e perfezionare le procedure di monitoraggio delle collisioni e la raccolta dei dati. Io credo che oggi questo seminario sarà un momento di arricchimento per tutti noi, per tutti voi, per poter costruire poi passo passo insieme un percorso che possa dare certezze a chi ruota, a chi si trova nelle criticità, in questo caso i nostri concittadini e anche per dare, creare sempre meno incidenti e quindi mettere in salvaguardia gli animali di questa nostra regione. Presente il relatore della giornata formativa Moreno Pironi, assessore della Regione Marche. Il tema degli incidenti stradali, delle criticità che esistono e ci sono nella nostra regione, sono ormai attenzionati da qualche anno dalla regione, ma l'iniziativa, questo, chiamiamolo così, seminario di confronto con tutti i soggetti che sono interessati a dare garanzia intanto agli animali, quindi cercare di prevenzione per evitare che questi animali intanto possano essere, come dire, una difficoltà, ma anche dare certezze a chi purtroppo, e sono ormai tantissimi, hanno questo tipo di incidenti con gli animali che invadono le strade. Allora, questa giornata è una giornata che, a mio avviso, è determinante per un'organizzazione sempre più precisa e dettagliata di quello che ognuno di noi deve fare per prima la regione, nel rispetto delle varie normative e le regole. Questa giornata si inserisce poi in un risultato, a mio avviso, come dire, importante, che ieri in Consiglio regionale è stato definito ed approvato, è il nuovo piano faunistico regionale, tanto atteso da tutto il sistema, non soltanto venatorio, ma dal mondo agricolo, dal mondo ambientalista, perché il piano faunistico nei prossimi 5-8 anni definirà e declinerà tutte le iniziative che servono e sono importanti per, sia la tutela della caccia, ma anche per dare garanzie a tutti i soggetti che sono gli attori principali, quindi al mondo ambientalista, animalista e quant'altro. Il piano faunistico naturalmente è un piano che raccoglie, cerca di raccogliere tutte le istanze che arrivano da tutti questi soggetti attuatori, tutto è migliorabile, ma credo che in questo anno, e la cosa bella e la cosa forte e importante, è che noi siamo riusciti a garantire il rispetto della parola che abbiamo dato a tutti questi soggetti, cioè che entro un anno noi avremmo approvato il piano faunistico. Quindi il piano faunistico è partito nel novembre del 2018 e nel febbraio del 2019 e del 2020 è stato approvato, quindi un anno e due mesi. Ecco, da questo punto di vista sono soddisfatto e allo stesso tempo è uno stimolo per me come assessore della caccia, ma per il Presidente della Regione a impegnarci sempre di più affinché tutti coloro che ruotano intorno alla caccia possano avere il giusto riconoscimento delle proprie aspettative. Life Strade è il progetto di sicurezza stradale che mette al centro i cittadini, l'ambiente e la sua biodiversità, sperimentando un sistema all'avanguardia che previene gli incidenti dovuti all'attraversamento della fauna selvatica, quindi avviata grazie al cofinanziamento di programmi europei Life Biodiversity e la sperimentazione che ha coinvolto tre regioni italiane. Oggi siamo nella fase dell'afterlife, quindi siamo dopo il progetto, ma queste attività le dobbiamo mantenere fino al 2022. Attività molto importanti perché stiamo molto sul territorio e grazie a questi impianti che abbiamo installato nel caso della prima cipresa rubino, nella SP3 bis e nella SP3, per l'area di Montecalvo in Foglia e l'area di Acqualagna e Cagli, abbiamo avuto dei buoni risultati per l'anno 2018. Si tratta di quasi un 90% di attivazione dell'impianto con solo la presenza di tre incidenti stradali causati con la fauna selvatica. Questo dato, se oscilla anche nell'altro impianto, nell'altra strada, va sul 95%. È chiaro che questo dato deve essere poi anche analizzato con tutte le variabili ambientali che anche con un modello come questo, che è comunque un impianto sperimentale, non riusciamo a ben individuare. Fatto sta che siamo molto soddisfatti, sappiamo cosa dobbiamo migliorare, per cui facendo un'analisi del territorio, inserendo anche eventuali corridoi ecologici per migliorare il transito degli animali in sicurezza, siamo convinti che l'impianto ha un senso e potrebbe essere anche ampliato in altre strade. Abbiamo avuto quindi, dal 2004 al 2012, quasi 3.500 dati che sono stati analizzati nel progetto LifeStrade. Di questi, nel progetto però, sono stati utilizzati solo quelli di competenze della provincia, per cui ne abbiamo selezionato circa 1.000 nelle strade provinciali. La regione Umbria è la capofila di questo progetto Life, a cui hanno partecipato anche la regione Toscana, la regione Marche e altre province, le due province della regione, la provincia di Grosseto, la provincia di Pesaro, erano 7 adesso, tutte non le ricordo. L'obiettivo principale era, da un lato, risolvere la problematica sempre più pressante degli incidenti causati dalla fauna selvatica e contemporaneamente sperimentare nuove soluzioni che potessero dare una risposta ed aiutare a risolvere questa problematica. Questi quattro anni sono stati fatti sia una serie di indagini approfondite per individuare le aree maggiormente, gli hotspot, le aree maggiormente interessate da questi incidenti e dall'altro lato dove poter appunto sperimentare queste stazioni e verificare la loro effettiva capacità di prevenire questi incidenti. In più, una cosa importante dei progetti Life è anche la divulgazione dei risultati e far conoscere anche ad altre regioni queste sperimentazioni perché poi purtroppo è una problematica che si rileva e è stata osservata anche in parecchie altre parti perché il cinghiale che è la principale causa degli incidenti si è andato sempre più diffondendo in tutta l'Italia. L'area principalmente interessata era questa nostra del centro Italia, infatti era quella dove principalmente e inizialmente si rilevavano tutti questi incidenti. Piano piano purtroppo abbiamo avuto cognizione di causa che questo accadeva anche in Nord Italia e in Sud Italia, infatti nell'ambito sempre del progetto abbiamo fatto una serie di incontri e di seminari con le altre regioni sia al nord sia al sud. I risultati devo dire sono molto soddisfacenti in quanto perlomeno la cosa che ho direttamente a conoscenza per la nostra regione ma so che anche appunto per le Marche e per la Toscana, le aree interessate della sperimentazione dove erano rilevati numerosi incidenti, dall'installazione di queste stazioni gli incidenti praticamente si sono azzerati e quindi la validità della struttura è stata confermata. Ora questa era un punto di una sperimentazione e non è questa la sola soluzione perché contemporaneamente ci deve essere anche la gestione della specie perché non possiamo semplicemente trovare un sistema, mettere delle recinzioni o questi sistemi ma va anche gestita la specie che comunque è sempre in aumento e quindi trovare anche altre azioni che collateralmente insieme in sinergia con questi sistemi riescano un pochino a mitigare e a risolvere questa problematica. Il sistema Life Strada ha installato un sistema di rilevamento che scoraggia l'animale dall'attraversare la strada quando un veicolo è in avvicinamento. L'intervento si è concentrato sui punti di maggior criticità nei quali sono stati installati dispositivi di rilevamento. Il funzionamento è molto semplice pur richiedendo l'uso di tecnologia all'avanguardia. Quando un animale si avvicina alla carreggiata un sensore radar rileva la sua presenza e la comunica via modem a una centralina elettronica che a sua volta con un lampeggiante avverte gli automobilisti del pericolo. Se il conducente non rallenta si attiva anche un dissuosore acustico, fa il verso del lupo, il rumore di una battuta di caccia o altro che allontana l'animale in direzione opposta dalla strada. Questo progetto Life Safe Crossing si può considerare figlio del progetto Life Strada perché le buone pratiche apprese nell'ambito di Life Strada sono state esportate in altre aree dell'Italia e quindi in particolare nei due parchi nazionali abruzzesi che sono il parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e il parco nazionale della Maiella ed anche all'estero in Spagna, in Grecia e in Romania. Questo progetto quindi sfrutta tutte le conoscenze acquisite in Life Strada e si occupa in particolare dell'impatto del traffico veicolare su delle specie prioritarie quindi a rischio di estinzione come l'orso marsicano, l'orso europeo per quanto riguarda la Grecia e la Romania e la lince iberica nella regione dell'Andalusia. Quindi è ancora una volta una dimostrazione come è possibile esportare le buone pratiche apprese in un contesto internazionale e soprattutto fare tesoro per migliorare e cercare di ridurre quello che è l'impatto delle strade e del traffico veicolare sulla fauna selvatica. Questo sia in termini di un impatto che in termini di mortalità diretta degli animali ma anche come frammentazione dell'habitat perché le strade e il traffico limitano le capacità di spostamento dell'individuo. Sempre tenendo presente che in questo progetto come già in strade si tiene in grande considerazione logicamente non solo l'aspetto della conservazione ma anche della sicurezza dei guidatori. Quindi sono tutte iniziative importanti proprio perché hanno una valenza che va appunto al di là della semplice conservazione della natura. Le aree di intervento del progetto qua in Italia sono Parco d'Abruzzo, Lazio e Molise, Parco Nazionale della Maiella. In Italia occorre dire che c'è anche alcuni interventi in provincia di Terni perché la provincia di Terni ha partecipato all'Aifstrade e quindi è un po' il trade union con questo nuovo progetto e poi in Spagna gli interventi saranno in Andalusia, una regione appunto dove la lince iberica è presente, in Romania nella zona di Brasov, quindi dei Carpazzi e in Grecia nella regione della Macedonia occidentale a confine con l'Albania che è un'altra zona importante per la presenza dell'Orso. Grazie a tutti.